Il posto di polizia nell'ospedale di Teramo sarà rafforzato e questo è il risultato della visita del questore Carmine Soriente, accompagnato dal vicario Alessandro Di Blasio, al pronto soccorso alla sala videosorveglianza del Mazzini. Entro la prossima settimana prenderà servizio un nuovo ispettore, che andrà ad aggiungersi alle altre unità impegnate nella struttura. La decisione arriva al fine di contenere le aggressioni nei confronti di medici e infermieri, che si verificano quotidianamente. Dall'inizio dell'anno infatti sono stati circa 500 gli atti di violenza verbale nell'ospedale Teramano, 7 gli infortuni legati ad esse, 17 nel 2023. Il questore, signor questore, lo ringrazio tanto, mi aveva fatto questa richiesta che volevamo fare un giro per l'ospedale di Teramo per vedere qual è la realtà Teramano, quindi ci ha dato l'opportunità anche di renderle dotto di tutto quello che accade nei nostri ospedali. E ecco, da noi è una realtà che è un problema che esiste anche da noi, anche se in maniera più lieve. Noi abbiamo riscontrato nel 2023 solo 17 casi con infortunio nel 2024, invece solo 7-8 i casi con infortunio. La cosa invece che va rimarcata è che ci sono circa 500 aggressioni verbali nei triaggi, nei pronto soccorso, persone che vanno in escandescenza, tra l'altro anche minacciando il personale sanitario, gli infermieri, i triaggisti, minacciandoli anche e incutendo timore e paura, tant'è che queste persone neanche vanno a segnalare questi episodi. E ieri su questo questore è stato categotico dicendo che qualsiasi forma di violenza deve essere segnalata e deve essere perché è importante per poter arranginare questo fenomeno. Secondo le previsioni organizzative della ASL, il posto di polizia dovrebbe essere sistemato in un nuovo locale, nei pressi del pronto soccorso, luogo in cui si verifica la quasi totalità delle aggressioni. Si è entrato a gire innanzitutto, noi già avevamo delle persone della Polizia di Stato all'interno del nostro comio, adesso ne erano due, adesso andranno a tre, darà un'unità in più che dai primi di ottobre verrà data una persona in più e quindi andranno a coprire. Quindi stiamo vedendo anche di trovare un'allocazione fisica più visibile che dia modo appunto a chi va in ospedale di sapere che lì c'è un controllo anche dal punto di vista di forze di polizia e quindi dar maggior sicurezza al medico si sente oppure l'infermiere, tutti gli operatori si sentono più tutelati e protetti da questa presenza costante. E soprattutto anche creare un collegamento diretto con le forze di polizia nel momento in cui dovessero esserci degli accadimenti dannosi nei comuni del personale.